Le limitazioni imposte dalla pandemia impediscono quest'anno di apprezzare dal vivo la musica della settimana rossiniana. Ma intanto c'è chi può godere dei sapori tanto amati al palato da buongustaio del più illustre cittadino pesarese. Sono i bambini delle scuole primarie dell'infanzia pesaresi che oggi si sono seduti nelle rispettive mense con un pranzo dal menù tutto rossiniano organizzato dal Servizio Politiche Educative del Comune fra le tante iniziative trasversali alla settimana rossiniana. Abbiamo rivisitato alcune ricette che ci sono state tramandate come maccheroni alla rossini, il filetto in salsa vegetale, insalata con vinagrette e per finire la torta di mele. Un pranzo che ha coinvolto 49 istituti con 2.900 bambini a tavola a scoprire le rossini gourmet come primo passo mosso alla scoperta della storia e delle opere del personaggio simbolo della cultura cittadina. Curiosità che si è impadronita degli alunni della scuola Pirandello. Quei bambini innanzitutto sono molto contenti di questa iniziativa. Noi abbiamo già parlato ai bambini ieri di questo bellissimo pranzo in onore al ricordo di Rossini. Quindi già ieri abbiamo parlato di Gioachino Rossini e tra l'altro loro sono rimasti anche e diciamo meravigliati del fatto che lui è nato il 29 febbraio. Allora proprio per ricordarlo ha detto ma maestra Marta ma come facciamo? Adesso sono un po' piregliani. Ha detto infatti per questo siccome lui compieva gli anni ogni quattro anni quindi era molto più giovane degli altri allora noi per onorarlo gli abbiamo dedicato questo pranzo. Addirittura loro appunto già sanno che Gioachino era molto amante della buona cucina e quindi noi oggi gustando questo piatto particolare un po' lo ricordiamo pensiamo a lui poi dopo vedremo anche delle sue opere alcuni momenti della sua vita e noi siamo onorati infatti i bambini stessi hanno detto ma noi siamo contentissimi che Gioachino ormai per loro è diventato un amico è nato a Pesaro e già alcuni di loro hanno avuto modo nel weekend di visitare il Teatro Rossini, il Via Rossini con i loro genitori quindi diciamo vorremmo che questo evento potesse continuare a livello multidisciplinare nell'attività scolastica.